La creatività premia. Premia a tutti coloro che nella due giorni all'Aurum di Pescara metteranno in gioco la propria maestria. Non esistono ambiti predefiniti, non esistono limiti tematici. Si passerà dal cake design alla musica alla cinematografia. Spazio dunque a tutti i sensi. I creativi a Pescara sono iscritti a questo portfolio internazionale che ha scelto la nostra città quest'anno per potersi incontrare. Ne sono circa 250. Ci sono tante risposte da studenti professionisti di ogni età che hanno deciso appunto di venire all'Aurum e di contribuire all'organizzazione di questo evento. E' stato messo a disposizione un premio proprio da Beyance, un pacchetto Adobe Creative Cloud che verrà assegnato al progetto migliore presentato da un creativo abruzzese. Beyance raccoglie ogni forma di creatività, dal digitale alla fotografia passando per la moda e il cake design. Quindi diciamo che la scelta sarà sicuramente ardua, quello che andremo ad apprezzare ovviamente è l'originalità. Due giorni dedicati non solo ai creativi e agli addetti ai lavori ma anche a curiosi o appassionati che potranno vivere le atmosfere pensate per l'occasione. L'ingresso è libero e gratuito. Abbiamo un primo appuntamento alle 15.30 di domenica con il cover book design organizzato in collaborazione col festival delle letterature. A seguire la proiezione del film Index Zero che è il secondo film di fantascienza italiano dopo Nirvana, sarà presente proprio il regista. E poi dalle 19 in poi tantissima musica con performance live ma anche con il DJ set del nostro storico DJ Andrea Gabriele che quest'anno si è giudicato il premio come miglior sound designer.